Bebi scafisti addestrati per settimane, sono in tutto sei, quattro dei quali minori, due sedicenni ed altrettanti diciasettenni, fermati a Pozzallo in seguito allo sbarco di ieri di 324 migranti. I sei, anche un ventenne e un ventiseienne, tutti gambiani e senegalesi, erano alla guida di tre gommoni salpati dalla Libia e poi soccorsi nel canale di Sicilia. Facevano tutti riferimento ad un'unica organizzazione costituita da libici che hanno guadagnato 300 mila dollari. I 324 migranti invece sono stati costretti a pagare mediamente 900 dollari solo per il viaggio, il resto lo hanno versato prima per raggiungere la Libia e per la permanenza nei capannoni. Provenienti da diversi paesi del centro-Africa, sono stati poi tratti in salvo da nave di Ciotti della Guardia Costiera, che li ha quindi condotti a Pozzallo. Gli scafisti, tutti reo confessi, sono accusati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.